Nell'ambito della programmazione sulla formazione del personale specialista, il Comando Provinciale dei Vigi del Fuoco di Sassari ha organizzato nelle giornate scorse un'esercitazione di soccorso a persona nel Parco Eolico della Società Eone in località Pedro Miolu, nel comune di Florinas. Sul posto è intervenuta la squadra del personale specialista del nucleo provinciale SAF Speleo Alpino Fluviale, addestrata per operare in scenari di soccorso in altezza con mezzi non convenzionali come funi e attrezzatura tecnica di arrampicata. La simulazione di intervento è consistita nel prestare soccorso a un operaio addetto alla manutenzione, colto da malore dentro l'aereo generatore, sito a un'altezza di 60 metri dal suolo. Raggiunta la vittima, sono state prestate le prime cure sanitarie per poi immobilizzarlo all'interno di una specifica barella e calarlo al suolo attraverso una bottola con l'ausilio di funi e tecniche di derivazione alpinistica. Non è la prima volta che i Vigili del Fuoco collaborano con le diverse aziende dislocate nel territorio che, consapevoli della complessità di un intervento immediato, chiedono la professionalità dei nuclei specialistici SAF. Queste collaborazioni, sempre più frequenti, permettono ai Vigili del Fuoco di accrescere e affinare le varie tecniche al fine di dare un'immediata risposta in caso di chiamata di soccorso.